Ecco l'atteso taglio del nastro da parte del sindaco Francesco Ricci e l'assessore al verde pubblico Gian Pietro. E subito decine di bambini hanno invaso, accompagnato da genitori o nonni, il rinnovato parco giochi della villa comunale. Abbiamo aperto qualcosa di qualità, con tutto a norma, con grandi possibilità per i nostri bambini per passare del tempo libero in pace, in serenità e per le loro famiglie. Questa è la prima parte della villa che viene ristrutturata, però insomma mi sembra veramente che il lavoro sia uscito molto bene e veramente devo ringraziare tutto il settore con il quale abbiamo avuto anche delle polemiche per ritardi, per le situazioni che si sono create, però insomma adesso devo dire che avevano ragione loro ed mi sembra veramente una cosa bella. Ora la sfida, o meglio l'impegno da mantenere è che a breve tutta la villa comunale sia finalmente fruibile da tutti i chietini e non solo. Fra una quindicina di giorni potremo inaugurare il vialone nuovo che sarà tutto in pietra e poi contemporaneamente subito dopo il laghetto, quindi ci siamo, siamo diciamo a giorni.